E' un'altra cosa. Tutti i libri per te? No, questi non sono libri, sono pareti divisori. Così ha detto l'architetto, questo è l'appartamento degli sposi. Provate la loca, quello è l'angolo studio, ora lo devo pulire. L'angolo studio? Si, perché ha detto l'architetto che l'appartamento è fatto tutto a angoli. Quello dove state voi, ora, è l'angolo studio. Questo è l'angolo salotto. L'angolo letto adesso non si vede, no? L'angolo pranzo poi non c'è, perché ha detto l'architetto che vengono a mangiare da voi. Ah, questo me lo immaginavo. E dimmi una cosa ragazzi, e tutti i libri miei per terra che ci fanno? Te l'ho detto prima, l'architetto fa costruire tutti i tramezzi, alti un metro e mezzo. Così quando uno sta seduto non vede niente. Quanto stai a dovere tutto il costo? Finché ci sono io in questa casa, ci sono io in questa casa, vieni. Tu metti a posto tutto come stava prima. Abbracciò una signora cazza ico quando dice che non capite i giovani. Che sei dalla Napoli che fu. Lasciamo mettere a posto, eh? La vita è un astronauta, papà. Mia nonna è un astronauta, papà. L'amore è un astronauta, papà. L'amore è un astronauta ma è un amore. L'amore è un astronauta, papà. L'amore...